Se abbiamo aggiornato una chiavina 2.0 Plus alla versione 3, è possibile disattivare la licenza e trasportare la licenza su un'altra chiavina 2.0 Plus tramite la disattivazione della licenza. Per fare ciò, all'interno della nostra chiavina, nella cartella Alpha Reader, è presente il file disattiva licenza. Tramite la disattivazione della licenza, la nostra chiavina aggiornata alla versione 3.0 tornerà una versione 2 e potremo aggiornare un'altra chiavina alla versione 3.0. Grazie a tutti.